Ben trovati. Come Gesù sostiene i Suoi discepoli dopo l'Ascensione? Per rispondere a questa domanda andiamo al capitolo 14 di Giovanni che dice Se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. E' quello che festeggiamo nella Pentecosta e cioè lo Spirito Santo. E' bello pensare che abbiamo un Avvocato, il Paraclitos, il Difensore, l'Avocato, il Soccorritore, il Consolatore. Non è altro che lo Spirito Santo. Gesù non ci lascia solo. Gesù manda lo Spirito ed è questo importantissimo. E' forse qualcosa che spesso ci dimentichiamo nella nostra fede. Questo è forse un grosso problema spirituale, nel senso che spesso la nostra fede trinitaria non è così tanta trinitaria perché ci dimentichiamo dello Spirito Santo. Parliamo di Dio, parliamo di Gesù Cristo, spesso parliamo anche della Madonna, come se fosse il terzo persona della Trinità, dimenticandoci lo Spirito Santo. Voi sapete che la Chiesa, nella sua tradizione, ha anche lasciato diverse preghiere che si potrebbe recitare ogni mattina per chiedere lo Spirito Santo. Perché è lo Spirito che ci guida, è lo Spirito d'amore, che deve guidare la nostra vita, che deve aiutarci nel nostro cammino, nelle nostre decisioni, anche difficili. E' lo Spirito che deve guidare tutta la nostra vita verso Cristo e attraverso di Lui verso il Padre. Allora, vedete, è un elemento fondamentale che spesso mettiamo da parte. Gesù non ci lascia solo, ci manda il suo Spirito.